cari amiche cari amici questo è il primo video di una nuova playlist dove tramite una serie di esercizi faremo insieme un ripasso o uno studio della matematica quando vedete che ha un pallino su tre vuol dire che tratta argomenti che di solito si studiano nella scuola media oppure nei primi due anni della scuola superiore oggi vediamo come si calcola 64 elevato a 0,5 la parentesi in effetti è superflua ma semplicemente mi sembrava più chiara la scrittura perché magari qualcuno si poteva stupire di un esponente decimale se vuoi pensarci metti in pausa altrimenti tra un attimo vediamo come si fa allora vediamo un ragionamento che ci porterà alla soluzione e poi alla fine del video vediamo una procedura per risolvere esercizi simili allora noi dobbiamo calcolare 64 elevato a 0,5 chiediamoci che cosa otteniamo se moltiplichiamo tale numero per se stesso dato che sono due potenze che hanno la stessa base come è noto si ottiene una potenza che per base ha la stessa base e per esponente la somma degli esponenti quindi otteniamo 64 elevato a 0,5 più 0,5 che ovviamente fa 64 elevato a 1 che è semplicemente 64 ma quale o quali sono quei numeri che moltiplicati per se stessi danno 64 ebbene ce ne sono solo due c'è il numero 8 8 per 8 fa 64 e il numero meno 8 meno 8 per meno 8 fa 64 meno 8 non può essere il risultato corretto perché una potenza con base positiva dà sempre come risultato un valore positivo qualunque sia l'esponente sia che sia intero decimale irrazionale per cui 64 elevato a 0,5 è uguale a 8 per verificare che il risultato sia corretto lo possiamo calcolare con una calcolatrice scientifica esiste il tasto x elevato a y quindi si scrive 64 poi si schiaccia il tasto elevato a 0,5 e come vedete si ottiene 8 se vogliamo generalizzare questo risultato è possibile dimostrare con una procedura simile a quella che ho fatto prima che se noi abbiamo un certo numero reale positivo a quindi un qualunque numero positivo elevato a una certa frazione quindi elevato a n fratto m dove n e m sono numeri naturali con m diverso da 0 allora questa potenza è uguale alla radice di indice m di a elevato a n cioè in altre parole il numeratore rimane come esponente mentre il denominatore diventa indice della radice ad esempio 7 elevato a 3 quarti è uguale alla radice quarta di 7 alla terza se applichiamo questa procedura al nostro esercizio vediamo che si ottiene 8 infatti 64 elevato a 0,5 è come dire 64 elevato a un mezzo quindi il 2 diventa indice della radice mentre l'1 diventa esponente e quindi si ottiene la radice di indice 2 di 64 alla prima ma quando l'indice 2 si può sottintendere si parla di radice quadrata stessa cosa per l'1 come esponente quindi si ottiene la radice quadrata di 64 che come ho già detto in un altro video non fa più o meno 8 ma fa solo più 8 perché la radice quadrata nei numeri reali è un'operazione che ha come risultato sempre un numero positivo per oggi abbiamo finito ma se il video ti è piaciuto puoi salvare la playlist e anche iscriverti al canale accendere la campanella per essere aggiornato quando pubblico nuovi contenuti ciao e grazie ciao ciao ciao